Arrivo a Macerata, che lunga camminata, dalla stazione all'unima che razza di sudata, di corsa in facoltà, inizia le lezioni, non trovo aula prof, solo piccioni. E adesso questi qua, che cosa stanno a fa'? Sarà la quotidiana propaganda in facoltà, mi danno il volantino e lo sto per buttar via, e invece è una grande compagnia. E giorno dopo giorno passeranno le lezioni, chissà se è proprio questa la mia strada, Fortuna che qualcuno non mi abbandona nei casini, ma mi sta accanto, vada come vada. Siamo qui per te sempre e in ogni istante, saremo senza sosta il tuo rappresentante. A novembre vota solo lista 2 A novembre vota solo lista 2 Er su CTA, poi consigli e poi senato, in questi luoghi noi costantemente lavoriamo, nessun vostro bisogno è mai stato accantonato, è quello che anche noi desideriamo. E passo dopo passo non è solo un'illusione, che rende vuote tutte le promesse, si sa la strada è lunga, non ci spaventa camminare, se soprattutto si cammina insieme. Siamo qui per te sempre e in ogni istante, saremo senza sosta il tuo rappresentante. A novembre vota solo lista 2 A novembre vota solo lista 2 Do it! Do it!